Terrore la scorsa notte a Vallo della Lucania, dove un uomo cinquantenne armato di martello ha aggredito un infermiere e l'autista di un'ambulanza del 118 che sono giunti presso l'abitazione dell'aggressore a seguito di una chiamata d'emergenza. Il personale sanitario è stato colpito alla testa e sono rimasti feriti entrambi i due sanitari ed è stato necessario medicarli con numerosi punti di sutura. Le due persone aggredite non sono in pericolo di vita. L'aggressore è fermato e denunciato mentre sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni del gesto. L'episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i cittadini e i colleghi dei due sanitari aggrediti, riaprendo il dibattito sulla sicurezza del personale sanitario. Purtroppo in tutto il Salernitano, in campagna, le aggressioni al personale sanitario sono all'ordine del giorno e vengono compiute ai danni di medici ed infermieri che continuano a ripetersi anche negli ospedali nonostante la presenza dei vigilantes e dei drappelli della Polizia di Stato.